Buongiorno a tutti raga, io sono Stiketz e oggi sono qua un'altra volta a spacchettare le bustine di Euro 2020 Però raga l'edizione è perla, anche perché raga come ben sapete da noi in Italia non sono ancora uscite Quindi le uniche che riesco a reperire in questo momento sono quelle svizzere E a parer mio come tutti gli anni che ci sono gli europei e mondiali, quelle svizzere hanno sempre qualcosa in più Qualcosa di migliore, sempre più belle Nello scorso spacchettamento vi ho fatto vedere l'album, in cui oggi l'ho già slivato Se qualcuno si stesse chiedendo che misura sono queste buste, sono 25x35 A sua disposizione avremo 20 bustine, sperando raga di trovare qualche top player tipo Ronaldo, un vapeo, qualche giocatore interessante Ma prima di cominciare con il video, chiedete un bel like di supporto e iscrivetevi al canale di Stropu qua sotto Se ancora non l'avete fatto, dai raga iscrivetevi, a me fa veramente molto piacere Magari raga, segretemi anche su Instagram, vi lascio il link in descrizione E troverete un sacco di novità, tutte le volte ci sono delle ruchi, le metto sulle storie, un sacco di esaurite E avrete sempre, sempre aggiornati in tempo reale su quello che esaurisce nel mondo panini Vi ricordo inoltre che se volete essere salutati in un mio video, dovete iscrivervi sotto nei commenti Il hashtag salute, mi lasciare un nickname e soprattutto iscrivervi al canale Detto questo, in cui ci ho subito con l'unboxing Andiamo ragazzi col primo pochettino Abbiamo due giocatori di movimento, tra cui Isaac Kuluzaschi della Juve Poi abbiamo Elmas e Bardi verso il movimento Abbiamo Salvatore Sirigu, ragazzi, della nostra nazionale Poi abbiamo Piotr Zilischi del Napoli E un giocatore di Macellone Secondo pacchettino Abbiamo i fratelli Hazard, messi tutti e due in un'unica foto, ci sta, molto, cioè ci sta Poi abbiamo Shaqiri della Svizzera Due giocatori di movimento della Repubblica Ceca Un giocatore finlandese e De Jong dell'Olanda Terzo pack, terzo pack Abbiamo Jensen della Finlandia Pucchi della Finlandia, che in versione italiana l'ho già trovata qualcosa come 20 volte Versalico Poi abbiamo Posh dell'Austria E Marirui del Portogallo Dai, ti prego, fatemi trovare qualcuno Ah, pacchetto che non si apre? Sarà un pacchetto fortunato? Abbiamo Lockyer, giocatore del Galles Poi abbiamo lo Scudettino della Macedonia, molto bello Bello, bello Poi abbiamo una Esultanza della Svizzera Poi abbiamo Jordan Henderson dell'Inghilterra E l'ultima è dell'Ucraina Che è Kriya, Kriya, so Perché fin dopo, vediamo Abbiamo Bojata del Belgio Poi abbiamo l'Ucraina in versione Esultanza Repubblica Ceca, Jakub Jankto Della Francia No, raga, 2002 della Francia Kamavinga Sì, in versione Perla, tra l'altro Tra l'altro la versione ormai come nelle nostre Ok, quando la troverò sono contento Ma la versione Perla mi fa ancora più contento Perché vale ancora di più Raga, l'edizione Perla dovete capire Che è un'edizione che vale più di tutte le altre Non so perché Però, forse perché è molto più unica, rara Essendo che esce solo in un paese del mondo Che è la Svizzera Raga, tanta roba Kamavinga, classe 2002 I due giocatori più giovani Ad aver esordito con la maglia francese E poi abbiamo un giocatore austriaco Perban Boom, bitch Get out the way Get out the way Mettiamola via questa dopo Abbiamo subito nel pack dopo Ti prego, fammi uscire cose di buono Abbiamo in movimento Noi e l'Inter della Germania Poi abbiamo Click della Polonia Della Svizzera So Che forse avevo già trovato anche Vese della Ungheria E l'ultima è Eric Garcia, classe 2001 Della Spagna Pack dopo Dai, 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 vamonos Doppia figurina dell'Ucraina Doppia figurina anche della Svizzera Poi abbiamo Eric Dyer Olson della Svezia E l'ultima è della Germania Rudiger Oggi poca, poca roba, eh, ragazzi Oggi veramente poca roba per ora A parte Kamavinga Che comunque mi fa felice Abbiamo Sonciuku Della Turchia Eriksen E un altro giocatore Della Danimarca Poi abbiamo Linetti Della Polonia Poi abbiamo O'Donnell Della Scozia E sempre della Scozia Armstrong Pack successivo Vediamo, vediamo, vediamo Abbiamo Skriniar E Satka In movimento Poi abbiamo Fiola E Lang Dell'Ungheria In movimento Belotti E chiesa della nostra nazionale In versione figurina Di movimento Poi abbiamo Valberg della Danimarca E l'ultima è dell'Olanda Martin De Ron Dai, fatemi trovare Qualche d'uno Molto bello, raga Questo Scudetto Se non è che L'avete già trovato Cioè, con tutti gli Scudetti Che ci mancano Troviamo quello doppio Vabbè Austria Scudetto Molto bello Ma doppio Due giocatori del Portogallo Esultanza della nazionale Portoghese Poi abbiamo Berbino, raga Quanto è totuato questo Mannaggia Classi 97 Dell'Olanda E poi abbiamo Wind Andiamo subito Col pacchetto successivo Abbiamo Mason Mount E Declan Reis In versione Movimento dell'Inghilterra Dalitia Carr E Livakovic Della Croazia Poi abbiamo Sua Maestà Manuel Neuer Della Germania E questo mi fa felice Grande Neuer Poi abbiamo Fraser della Scozia E l'ultima della Danimarca Jensen Andiamo subito Col pacchetto successivo Abbiamo Squadra di Sultanza Della Germania Molto bella anche questa Poi abbiamo Due giocatori Della Finlandia Oli Zabal Della Spagna Poi abbiamo Giorginio Della nostra Nazionale D'Italia E poi abbiamo Della Slovacchia Mazzan Pack dopo Dai 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 Voglio qualche top player Dai Abbiamo Brand Della Germania Poi abbiamo Sparv Karaman Della Turchia Repubblica Cica Kral E l'ultima è Dell'Astra Che palle Rantfel Pack Dopo Vediamo Prossimo pack Abbiamo Lo Scudettino Turco Che è molto bello Poi Giocatore Della Svizzera Poi abbiamo Saldai Della Ungheria Della Croazia Kramaric E l'ultima Del Galles Davis Con questo Mancano 6 pack Termine di queste figurine Giocatore Della Repubblica Cica Poi abbiamo Un giocatore Ungherese Che è Saldai Poi ho Un portiere Austriaco Un altro giocatore Che è Trimmel E l'ultima Della Francia Classe 89 Che c'è da 89 Della Francia Stesso co Andiamo subito Con il pack successivo Vediamo Figurina Della Resultanza Del Belgio Due giocatori Di movimento Della Scozia Poi abbiamo Livacovic Della Croazia McBurnie Della Scozia E della Repubblica Cica Abbiamo Pavel Velenca Pratt'ultimo pack Dai Abbiamo Lucas Digne In questa posa Da foto Modello Della Francia Anche Pavard Un altro terzino Francese Poi abbiamo Klosterman Della Germania Bel pacchettino Questo Yatschi E l'ultima Della Svezia Craft Ecco qua Il prossimo Terzo ultimo Pacchettino Abbiamo Berg Della Svezia Due giocatori Di movimento Della Turchia Poi abbiamo Veltman Dell'Olanda Un altro giocatore Dell'Ungheria Che è Hangia E l'ultima E Bedrenerack Della Polonia Siamo in via di conclusione Siamo al penultimo pack Abbiamo Marco Ornautovic Tra l'altro Anche ex Inter Abbiamo due giocatori Di movimento Dias e Silva Idola della Repubblica Ceca Skov Della Danimarca E della Finlandia Abbiamo Kratzki Ultimo pack Rega Ultimo Ultimo pack Abbiamo Gordon Della Scozia Poi abbiamo Satka Della Slovacchia L'esultanza Della Croazia Poi abbiamo Un giocatore belga Che è Courtois Ottimo portiere Questo E l'ultimo È Lopez Del Portogallo Il portiere Raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Non è andata bene Come speravo Però comunque Vi è entrato Camavinga Noir, Giorginio e Sirgui Dopo oltre a diversi scudetti Io vi dico Quasi quasi Mi spacchetto anche Questi due pacchetti Andiamo con il primo Rapidissimamente Speriamo di trovare Qualche vero Vero top player Abbiamo Gnabry Della Germania Boril Della Repubblica Ceca Mac Della Slovacchia Orban De Bruyne Il numero 22 Di questa collezione Char Il codice Per il gioco Online Le durare sono Karaman Della Turchia Che forse già avevo E l'ultima Orizobal Fans favorite Andiamo con quest'ultimo pack Che poi passiamo Ai saluti Abbiamo Zinchenko Dell'Ucraina Rattiala Della Finlandia Hittringer Dell'Austria Castagna Del bel gioco Che già avevo Nel Vedi Il codice Per il gioco Online Poi abbiamo Una rara Che è Vediamo Neves key player Buona questa Ovviamente buona Poi abbiamo Un altro Ah Strarare Questo pacchetto Poi abbiamo Un power trio Della Austria E l'ultima È un centrocampista Ed è Toni Kroos Detto questo Io ora passerei Direttamente Ai saluti Con questa bellissima figurina Di Kama Vinga Edoardo Classe 2002 Voglio salutare Mattia Nico Becca Maverick David Gamer Francesco Karil Baby Drago E Luca Serra 22 Vi risolto tutti E vi lascio Al prossimo video Ciao!